Musica Un cordiale saluto a tutti voi, oggi è giovedì 24 agosto e questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV in diretta alle 7.30 del mattino da lunedì al sabato sul canale 17. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Allora partiamo dal Santo del Giorno, oggi è San Bartolomeo, San Bartolomeo è apostolo, è stato in qualche modo legato alla, non c'entra niente tra l'apostolo e la fiera che insomma comincia a Fano, ma insomma è legata, il nome volevo dire è legato alla fiera che inizia a Fano, la fiera di San Bartolomeo appunto. Allora il sole è sorto le 6.22, tramonterà le 19.59 minuti, quindi un minuto prima rispetto a ieri, le giornate cominciano ad accorciarsi. Il sole oggi splenderà su tutta la costa adriatica, quindi per chi è qua in vacanza, per chi ha ancora qualche giorno di vacanza da trascorrere al mare, può tranquillamente andare al mare, sarà anche calmo, quasi calmo, soltanto poco mosso nelle ore centrali. Qualche breve isolato piovasco, ma limitatamente ai rilievi nelle ore pomeridiane, quindi nell'entroterra, perché questo diciamo cielo sereno si velerà nel pomeriggio per questa attività comuniforme, ma soprattutto ripeto sulle vette appenniniche nel pomeriggio. Domani, venerdì 25 agosto, ancora cielo sereno poco nuvoloso, ci saranno queste nuvole alte che passeranno nel pomeriggio, soltanto qualche piovasco come ieri, come oggi appunto, soltanto sulla parte montana del sud delle marche, le temperature sono in aumento nei valori massimi. C'è un po' di vento, il mare sarà poco mosso. Sabato 26 avremo una nuvolosità un po' più estesa, quindi anche lungo la costa, con possibilità di brevi piovaschi sulle vette appenniniche e avremo ancora temperature in aumento, soprattutto nei valori minimi. Sono quelle temperature che in queste nottate ci fanno dormire tranquillamente, insomma, anzi con la copertina, come dicevo qualche giorno fa, venti di brezza leggera, il mare sarà quasi calmo. Le condizioni saranno stabili e soleggiate anche per la giornata di domenica. Si parla di noi, ormai da diverso tempo, da quando c'è stato nel mese di marzo l'attentato alla nostra sede, alla sede di Fano TV, questa mattina tutti e due i quotidiani, le edizioni di Pesaro Urbino parlano dell'attentato a Fano TV, perché? Perché si sono chiuse le indagini. Allora, vediamo il resto del Carlino, che titola così. Mi hai dato una cavalla zoppa. Chiusa l'indagine sull'incendio a Fano TV, ecco come Antonella Zaccarelli si rivolgeva in codice al presunto sicario per fargli capire che aveva fallito l'attentato. Roberto Damiani a pagina 3 spiega per filo e per segno, nei minimi dettagli, che cosa sarebbe avvenuto, quali sono stati i dialoghi, chiaramente recuperati dai file audio di Whatsapp. Si parla però anche di una donna ricoverata per malaria, non ho fatto viaggio a rischio, dal pronto soccorso ho trasferito agli infettivi e poi dimessa, verrà ispezionata la sua abitazione per catturare ed identificare tutte le zanzare trovate. È un caso anomalo, già avviate comunque indagini per capirne un pochettino di più. Poi, il provino dei profughi, ne abbiamo parlato anche ieri, il calcio è la mia passione, ma se non mi scelgono cercherò un altro lavoro. Tanti profughi, un centinaio di profughi si sono sottoposti ieri ad un test, c'erano degli osservatori, volevano sceglierle il migliore tra questi e fare un contratto per giocare a calcio. Però, insomma, tra aspettative e sogni il giornale racconta questa mattina un po' come è andata ieri questa selezione. Poi, all'interno delle pagine del resto del Carlino, i saldi di fine stagione però non sono solo quelli ufficiali, quelli legali, ma ci sono anche i vucumprai, i cosiddetti abusivi, insomma i vucumprai, che in questi giorni di fine estate chiaramente hanno della merce da dar via e quindi anche loro fanno degli sconti. Poi la valigia sospetta in autostrada, arrivano gli artificieri, lo vedremo tra poco, Amarotta ha messo un po' di subbuglio, di caos. Il Corriere Adriatico, ginnaste da 54 paesi, sta per cominciare il campionato del mondo di ginnastica a Pesaro, i mondiali dal 30 di agosto al 3 di settembre all'Adriatic Arena sono attesi oltre 20.000 spettatori. E poi oggi è il 24 di agosto, in tanti ricorderanno che l'anno scorso, come oggi, la terra tremò. Tremò le scosse che rasero al suolo interi paesi, morirono 51 marchigiani. E poi sotto conversazione in codice per l'incendio a Fano TV, la polizia deposita il rapporto finale sulle indagini, ma due testimonianze smontano l'indizio principale. Vedremo poi quali sono queste testimonianze, anzi lo vediamo subito perché ripartiamo dal Corriere Adriatico che titola a pagina 13 l'incendio è una cavalla zoppa, ricostruiti tutti i dialoghi tra la Zaccarelli e Di Lucera. Di Lucera sarebbe l'autore materiale di questo attentato nella relazione finale delle indagini. Per la polizia sono frasi in codice, ma il difensore deposita due testimonianze. Quella sera nella Città della Fortuna dice il legale c'era il fratello dell'accusato, cioè c'era il fratello di Di Lucera. La presunta mandante non sarebbe stata soddisfatta dell'opera, opera che avrebbero dovuto svolgere altri. Cioè non doveva essere Di Lucera, secondo la tesi dell'accusa, a svolgere questo attentato, a compiere questo attentato, ma Di Lucera doveva semplicemente cercare qualcuno che lo facesse meglio, qualcuno, cioè un professionista, doveva venire a incendiare qui la sede un professionista. Però evidentemente per qualche ragione non l'ha trovato, non ha trovato questo professionista incendiario e quindi ha pensato di farlo da solo, di farlo lui. Tra l'altro c'è anche un'accusa di stalking in tutta questa vicenda, ma tutti i particolari li potrete leggere sui quotidiani di questa mattina. Sul arresto del Carlino, in Pesero primo piano, invece, Cavallazoppa, questo è il titolo, l'attentato fallito, i messaggi che inguaiano Zaccarelli. I file audio recuperati svelano i colloqui prima e dopo l'incendio. Qualche dato, tanto per far capire che cosa è successo. Il 23 di marzo scorso, alle 20.59, in realtà erano le 20.53, un uomo incappucciato getta benzina sull'uscio della sede di FanTV, qui fuori, e applica un incendio. In quel momento la sede televisiva è vuota, il fuoco si ferma alla porta. E questo è un fermo immagine, lo rifacciamo vedere per chi non l'avesse mai visto prima d'ora, un fermo immagine ripreso qui dalla nostra telecamera di sorveglianza, dove si vede appunto quest'uomo che getta benzina sul portone d'ingresso della sede, crea una sorta di miccia, vedi, per questa qui, e poi con l'accendino dà fuoco. Ok? E l'incendio, grazie a Dio, perché il buon Dio ci ha messo la mano, ci ha messo anche un piede, che cosa ha fatto? Si è fermato praticamente qua. Vedete? Ecco, si è fermato qui. Però se andava, se fosse andato un po' più avanti, vedete, qui c'è un tappetino, ce n'era un altro qui, che adesso non c'è più perché è ancora sotto sequestro, ma questo tappetino qua, l'incendio, si è fermato qui, dove sto segnando io in questo momento. Le fiamme hanno bruciato per un'ora e sono arrivate fino a qua, non sono andate oltre, ma se fosse andato la fiamma, guardate, qui c'è ancora il segno, vedete? Qui c'è la fiamma, la fiamma si sono fermate qua, vedete? Se fosse andato più avanti, avrebbe bruciato l'altro tappetino, che è qui, e soprattutto avrebbe preso fuoco il mobile, che è in legno, e potete immaginare i legni di oggi, insomma, avrebbe preso fuoco questo, poi tutto il cartongesso, e addio Fano TV. Capite con quale stato d'animo, tra l'altro si è qui, indipendentemente da chi sia, non mi interessa, questa è una cosa che deve appurare la magistratura, non mi interessa sapere chi è l'attentatore, chi è il mandante, non mi interessa, però chiaramente il rischio è stato grande, quella di andare in fumo 11 anni di storia, vedere andare in fumo tutto quello che è stato il sacrificio di una parte importante della vita mia, ma anche di quelli che hanno lavorato qui per tanti anni, e hanno portato la televisione fino a questo punto. Quindi, vediamo, questo comunque è, Allora, l'altra pagina del resto del Carlino, e adesso andiamo spediti, Pesaro è mondiale con la ritmica, gareggeranno al Palace 54 nazioni, campionati numero 35 al Via, dal 30 agosto all'Adriatica Arena, l'ultimo mondiale si è svolto a Stoccarda nel 2015, ha registrato 392 mila ore di trasmissione televisiva. La pagina di Fano invece, il problema dei vaccini, 180 non sono ancora in regola i bambini, sapete che c'è questo obbligo, per mandare i bambini a scuola, di vaccinarli, e gli uffici, che tra l'altro stanno qui attaccati a noi, proprio la porta accanto, insomma scoppiano, una media di 60 iniezioni al giorno, nell'ambulatorio qui di Via Borsellino. C'è un aumento del carico, ovviamente di lavoro, che è diventato enorme, ma il personale a disposizione dell'Aso resta questo. A Fano ci sono ancora, ci sono circa 30, sono circa 30 l'anno i neonati non vaccinati, con 180 famiglie a rischio, sanzioni amministrative, solo nella fascia di età tra 0 e 6 anni. 600 bambini se si considera tutta l'area vasta numero 1, mentre 90, sono 90 l'anno i non vaccinati, per morbillo, parotite, rosolia, che fino ad oggi è stato un vaccino fortemente consigliato, ma non obbligatorio. Seri succube, e qui si riaccende la polemica, pagina 15 di Fano, seri succube di Ricci pure sulla ferrovia, la fondo del sindaco di Urbino Gambini, che vedete nel tondo, Fano ci guadagnerebbe l'alta velocità. E allora si parla della vecchia tratta ferroviaria Fan Urbino, con la trasformazione in ferrovia turistica, appunto di questa tratta, la città di Fano ne beneficerebbe tantissimo, per la possibilità di avere le fermate dell'alta velocità, ma se Fano è succube di peso, dice il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, dunque getta acqua sul fuoco e aiuta soprattutto l'opposizione fanese, che punta proprio su questo, sulla debolezza del sindaco di Fano rispetto a Pesaro, e non ha digerito questo accordo che si cerca di far passare come un accordo che può portare beneficio alla città di Fano, perché si è inserita in corsa su un treno molto veloce che è il treno di Pesaro, che sta andando benissimo, sta andando alla grande. Chalet del Mar invece, eccone un'altra di patata bollente per il sindaco, lo Chalet del Mar, questo locale che sta andando fortissimo, che però, come dicevamo ieri, non ha gli spazi per poter avere tutta quella gente, più di mille persone, Chalet, sequestro comunque convalidato, i carabinieri, non sono state rispettate le prescrizioni, intanto a Torrette spunta, un altro caso, quello della pista Teicart. Probabilmente ci sono anche delle multe in arrivo, durante il blitz sono intervenuti i vigili urbani che hanno fotografato auto e moto. Poi, sulla pagina 16 di Fano e Valle del Cesano, c'è questo articolo in evidenza, spunta un cucciolo di volpe ferito in giardino, a terre roveresche, l'animale è stato investito da un'auto a Orciano, adesso c'è questa task force, soprattutto per cercare di salvarlo. E poi, la notizia è che è stato arrestato un 52enne, che stava perseguitando la moglie, l'uomo non aveva accettato che la sua ex finisse la sua relazione, quindi, insomma, un 52enne residente a Marotta, di origini campane, così come è campana anche l'ex consorte. Poi c'è un articolo che invece, sulla pagina di Urbino e Provincia, è curioso, perché a Belforte e all'Isauro, secondo alcune testimonianze, sarebbero apparsi, anche verso l'unano, degli animali un po' strani, incredibili. Cosa sono? Non si capisce, però è una segnalazione, tra l'altro curiosa, di un pensionato che dice non sono cani e camminano in fila indiana. E quindi c'è questo articolo di Pesciolini, questa mattina da Belforte all'Isauro, che, insomma, sicuramente desterà curiosità. Chi ha visto questi animali è questo Giovagnoli, di 77 anni, è una scena che gli è capitata qualche giorno fa. La pagina di Fano, cambiamo giornale, adesso torniamo sul Corriere Adriatico, la pagina di Fano, Centro Pediatrico per Cure Pagliative, il progetto fanese gradito dai medici, l'ordine appoggia la Fondazione Maruzza, la sede ottimale dice sarebbe il Vittoria Colonna. Adesso resiste una sola oca, parliamo ancora di animali, adesso resiste una sola oca, pensa a nutrirla a un volontario, il Canale Albani, che sapete, è ormai prosciugato dalla siccità, ma anche perché non c'è proprio acqua, il Canale Albani resta con pochi animali, e per i Germani non ci sono preoccupazioni, comunque questa è un po' la situazione, molti animali sono anche morti perché hanno, si sono utriti di cose putride, e quindi per un po' si è parlato anche di questo problema, poi sono state spostate, insomma i consigli della funzionaria del Comune per l'alimentazione da parte dei cittadini. Poi inizia Music Square a Lucrezia di Cartoceto, domani si inizia con il fortunato contest per artisti emergenti, quindi un appuntamento da non perdere per chi ama la musica, ci sono alcune serate, domani alle ore 21, frammenti e contaminazioni, che già in passato ha segnato l'inizio del percorso di artisti emergenti, dunque c'è questa Music Square a Lucrezia di Cartoceto, in piazza Giovanni Paolo II. Allora la pagina di Fano, adesso il Corriere Adriato è ancora l'altra pagina, rivoluzione tra i dirigenti, un bando per tre incarichi, si cercano i responsabili di Polizia Municipale, lavori pubblici e servizi demografici. È stato necessario avviare da principio il procedimento di mobilità volontaria per selezionare i candidati ai ruoli dirigenziali del Comune di Fano. Come è noto infatti per esempio il comandante Giorgio Fuligno, che ha comandato per tanti anni la Polizia Municipale, è andato in pensione e quindi c'è da sostituire il comandante della Polizia Fanese, poi lavori pubblici e servizi demografici. Dalla Valle del Cesano invece, avvistata una valigia sospetta, incubo, terrorismo, sull'A14, il bagaglio abbandonato in una piazzola di sosta marotta, traffico bloccato per 15 minuti. Da Urbino milioni per nuove case popolari, ma si discute sulle assegnazioni, 5 Stelle accusano, il Comune non ha un piano per favorire le famiglie italiane. E poi ancora animali, questa volta siamo passati dalla volpe a un animale non indefinito, a invece i lupi, che a quanto pare lasciano segni ben evidenti e quindi si riconoscono alla grande, una famiglia di lupi nel campo, alcuni esemplari a tavoleto sono stati avvistati in pieno giorno e filmati, dovrebbero far parte di una coppia con i cuccioli in cerca del loro branco, ci sono questi fotogrammi, comunque sono stati ripresi in pieno giorno appunto nelle vicinanze di tavoleto. Chiudiamo con due pagine, le mettiamo tutte e due a schermo pieno, eccole qua, perché come dicevamo oggi è il 24 di agosto, un anno fa il grande terremoto che scosse il centro Italia, oltre, e qui ci sono due pagine sul Corriere Adriatico, per chiudere, oltre Marisol il matrimonio e un altro figlio, dopo la morte della piccola che ricorderete ha commosso l'Italia, forse se guardate la foto più piccola sulla sinistra la ricorderete perché è stata fatta vedere tantissime volte in quei giorni terribili, i genitori non si sono arresi, questi due ragazzi, Massimiliano e Martina Piermarini, che vedete in questa foto in piazza d'Ascoli Piceno, adesso nuove nozze e una nuova gravidanza. Poi, sull'altra pagina invece, il miraggio delle casette, consegnate meno del 5% delle casette appunto richieste, non saranno tutte pronte neanche a dicembre, c'è questa denuncia dei sindaci che parla di autorizzazioni anche per tagliare i rami, area bocciata per un nome, insomma alla fine, tutte quelle cose che servono all'italiana, tutte quelle cose che servono per bloccare e per ritardare le cose, quando in realtà si potevano fare probabilmente con molto prima, ma vabbè, questo è. Noi ci fermiamo qui, la rassegna stampa è finita, ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia, 338-4968-250 per le vostre segnalazioni. Grazie per averci seguito, a voi tutti gli auguri di una buona giornata.